Michelle Insiche rivela in un'esclusiva intervista al settimanale Oggi in edicola dal 14 dicembre la speciale letterina a Babbo Natale della figlia Sole, 4 anni. E la reazione di mamma e papà, foto, video 1, video 2, video 3 Ci vuole tempo, Sole desidera tanto un fratellino per Natale e io le ho spiegato che non è una cosa così veloce, ci vuole tempo. Lo dice Michelle Insiche rivela al settimanale Oggi, in edicola da domani, spiegando che però la Cicogne non è in viaggio nonostante gli indizi lasciati dal marito Tommaso Trussardi. La copertina di Oggi in edicola, clicca sulla foto per ingrandire Michele Insiche. Tommaso Trussardi e le figlie al parco La piccola di casa ruba la scena a tutti, guarda la mano sulla pancia, giorni fa Tommaso io eravamo con le bambine in un parco giochi, quando ci accorgiamo di un gruppo di paparazzi. Subito Tommaso ha messo la mano sulla mia pancia. Io ho quasi urlato Tommaso, no. Ma chiaramente quella foto non è stata pubblicata. Alla domanda su chi, vizi di più le bambine, Michele risponde mio marito. Per lui è impossibile dirmi no. Lavora tutto il giorno e quando torna a casa si comporta proprio come uno sugardabile, uno zucchero di papà, Michele Insiche. Nuova rivelazione sciocco ho lasciato Eros.